Salve a tutti, oggi volevo parlare di come gestire il money management nelle opzioni binarie. Allora, come vi ho detto al principio, è molto importante la gestione del denaro quando si svolge la professione del trading. L'importanza della gestione del denaro va all'incirca il 99%, quindi bisogna stare attenti a questo. Vediamo una prima regola per poter gestire in maniera proficua il denaro. La prima regola per guadagnare consiste nel non perdere denaro. Chi è in grado di non perdere il capitale di partenza è sicuramente in grado di rimanere a lungo per guadagnare. Proteggere il capitale di partenza è la prima fase di un percorso più o meno lungo che può condurre a soddisfazioni economiche. La prima regola che bisogna rispettare, che ogni trader deve rispettare, è quella di non perdere il denaro, ossia proteggere il proprio capitale. Più sarà in grado il trader di proteggere il capitale di partenza e più sarà in grado di guadagnare in futuro. Infatti, money management significa gestione del rischio, quindi limitare il rischio di perdere il capitale in poco tempo. Non rischiare più del 2 o 5% del capitale posseduto in una singola operazione. Numero 2 Consiglio numero 2 Partire con un livello di capitalizzazione sufficiente. Supponete di voler adottare un money management del 5%. Bisogna prima guardare l'investimento minimo sulla piattaforma. Esempio, un investimento minimo di 10 euro. Poi decidere quando si vorrebbe versare di capitale. Quindi facciamo due conti. Se si vuole versare un capitale di 500 euro, bisogna calcolare il 5% di 500 euro. Cioè, 500 euro per 5 diviso 100 uguale 25 euro. Ne risulta che il 5% di 500 euro è 25 euro che possono essere investite in un'unica operazione. Quindi, investendo un capitale di 500 euro, noi non dobbiamo investire mai più del 5% per ogni asset. Quindi il 5% di 500 euro sono 25 euro che possiamo investire per ogni asset. Siccome l'investimento minimo sulla piattaforma è di 10 euro, abbiamo la possibilità di investire addirittura meno del 5%. E questo ci va bene. Avendo scelto una piattaforma, nell'esempio, avendo scelto una piattaforma con un investimento minimo di 10 euro, e avendo versato un capitale di 500 euro, a noi ci fa comodo questo investimento perché risulta che per ogni asset investiamo meno del 5%. E questo ci va bene. Facciamo un altro esempio. La piattaforma richiede un investimento minimo di 500 euro. Un investimento minimo di 5 euro, scusate. Noi vogliamo versare un capitale di 300 euro. Dobbiamo calcolare il 5% di 300 euro in questo modo. 300 per 5 diviso 100 uguale 15 euro. Significa che possiamo investire 15 euro per operazione. Il che significa che un investimento di 5 euro per operazione ci va benissimo perché è addirittura meno del 5%. Terzo consiglio. Non rischiare più del 15% del capitale in più posizioni contemporaneamente. Una giornata negativa potrebbe lasciarvi con la mano in bocca, non solo per le perdite subite ma anche dal punto di vista psicologico. Infatti perdite successive a quelle iniziali procurano un minor contraccolpo mentale. Le prime perdite infatti procurano un forte stress, mentre le perdite successive si accettano con maggiore facilità. E questa situazione potrebbe spingere il trader ad aprire posizioni con minor grado di attenzione. Con un capitale di 500 euro possiamo al massimo investire 75 euro suddivisi in tre operazioni, quindi 25 euro a operazione. Se l'investimento minimo sulla piattaforma è minore di 25 euro per operazione, la percentuale scende permettendoci di applicare sempre meglio la nostra gestione del denaro. Consiglio numero 4 Prima di aprire una posizione studia bene il mercato e l'asset selezionato. I trader non si improvvisano da un momento all'altro, ma bisogna sfruttare le occasioni che vi si presentano. Quindi bisogna avere pazienza e bisogna sfruttare le occasioni nel momento in cui gli indicatori sono tutti positivi e che vi si presenta un'occasione. Non bisogna investire mai o entrare al mercato per noia. Consiglio numero 5 Non cambiare idea o strategia in corsa di investimento È importante non adottare strategie improvvisate in corsa, senza prima un'attenta analisi, perché si rischia solamente di perdere altre posizioni. Se abbiamo una posizione in perdita, non cercate di recuperarla con altri investimenti, ma aspettate la scadenza oppure chiudete la posizione. Solo dopo si potrà riprendere il trading facendo un'ulteriore analisi. Quindi per riprendere la posizione perduta, non improvvisatevi a investire su un'altra posizione, ma aspettate la scadenza oppure chiudete la posizione, perché bisognerà fare un'ulteriore analisi per poter investire in una maniera adeguata. Consiglio numero 6 Valutare i risultati ottenuti È importante calcolare costantemente i risultati ottenuti, calcolando il ritorno sugli investimenti o ROI. Come si calcola? Il ROI è uguale all'utile derivato diviso il capitale investito. Se noi abbiamo investito un capitale di 500 euro e in un mese ne guadagniamo 2,50, bisogna fare questo calcolo. 750 meno 500 diviso 500, uguale lo 0,5%, che corrisponde al 50% di guadagno. In questo caso il ROI è positivo, quindi bisogna monitorare i nostri guadagni e vedere quanto è in positivo o quanto va in negativo. Facciamo un piccolo calcolo per il ROI. Allora, come vi ho fatto vedere, se noi per esempio abbiamo un capitale di 500 euro e ne guadagniamo anche 100 in un mese, allora si fa 600 euro, quindi il capitale guadagnato, meno 500, il capitale che abbiamo versato sulla piattaforma, è 100. Poi dobbiamo dividere questo guadagno diviso 500, che sarebbe il capitale che abbiamo versato sulla piattaforma, ci dà 1,0,2, che spostando la virgola corrisponde al 20% del capitale guadagnato, il che è molto, perché se voi investite per esempio i vostri soldi in banca, non ve li danno sicuramente il 20% in un mese, ma al massimo danno l'1,5% per tutto l'anno, quindi dovete investire grandi somme di denaro per poter guadagnare un pochino di soldi. Invece noi con 500 euro, solamente investendo 500 euro, già se in un mese ne guadagniamo 100, abbiamo guadagnato il 20% del nostro capitale, che non è poco. Conclusioni. Molti trader decidono di iniziare la propria avventura nel mondo delle opzioni binari con pochi euro sul conto, quindi scelgono broker che hanno un deposito minimo accettabile di norma tra i 50 e i 100 euro, ma in questo modo sottovalutano la gestione del capitale. Quindi è consigliabile scegliere il broker non solo sulla base del deposito minimo, ma tenendo conto del prezzo aperto per aprire le posizioni. Quindi voi, quando scegliete il vostro trader, non dovete tenere solo conto del capitale minimo che potete versare, ma dovete tenere conto anche dell'investimento minimo che potete aprire per ogni posizione, per fare così un calcolo per gestire al meglio il vostro denaro. Ecco, queste sono sei regole che vanno rispettate sempre. Per poter, diciamo, spronarvi a fare sempre meglio, io vi consiglio di fare questo calcolo del ROI e magari, per esempio, in un mese guadagnate il 10% del vostro capitale, in un altro mese guadagnate il 15%, in un altro tentate di guadagnarne il 20%, in un altro ancora il 25% e così piano piano riuscirete ad andare avanti. Non investite subito somme che potrebbero buttare a terra il vostro capitale. Per esempio, se avete un capitale di 500 euro non aprite una posizione di 100 euro perché potrebbe andare in perdita e potreste non riprendere più i vostri soldi. Allora, vi faccio vedere, ho fatto delle modifiche sul sito. Questo articolo lo metterò sicuramente nella sezione articoli dove sta Money Management. Io ho inserito altri articoli che saranno online a breve come le 10 caratteristiche dei trader di successo e qui ho inserito altri articoli che metterò spero di riuscirci entro il fine settimana però ho messo l'articolo come vi avevo promesso tecniche per principianti dove in questo articolo io ho scelto tre tecniche che secondo me sono adattissime per i principianti che sono delle tecniche molto facili ma non sono solo adatte per i principianti ma sono adatte anche per chi investe già sui mercati. sono tecniche con scadenza a 20-30 minuti e dove gli indicatori sono molto attenti nel segnalare i vari investimenti le varie entrate a mercato. Sappiamo tutti che gli indicatori non funzionano quando siamo in mercato laterale quindi dovete sempre riconoscere il mercato se è in trend e tramite l'indicatore ADX lo potete riconoscere. Questa è la pagina per le tecniche per principianti che ripeto sono anche buone per chi vuole adottare una perfetta gestione del money management e comunque per tutti coloro che investono anche da parecchio tempo nel mercato. Poi qui metterò altre tecniche che stanno avendo molto successo come le tecniche veloci metterò l'argomento come iniziare con le opzioni binarie che ho già spiegato qui le caratteristiche qui l'articolo o quest'articolo che vi ho spiegato oggi e altri articoli e fra un po' aggiornerò anche la mia prima pagina la prima pagina home page così voi potrete andare direttamente a vedere gli articoli. Queste sono le novità del sito e comunque ho aggiustato allora vediamo un attimo solo vi faccio vedere nelle tecniche per principianti praticamente qua metto i video delle tecniche e poi faccio vedere come si investe perché ho fatto alcuni video su queste tecniche e faccio vedere come si investe ma mano a mano che farò altri investimenti con queste tecniche io metterò sempre più tecniche per poter investire. Poi vi voglio ricordare dei miei ebook che per chi volesse cominciare c'è il mio primo ebook investire in opzioni binarie che peraltro sta ancora in offerta sulla Bruno Editore è un ebook che spiega l'analisi tecnica e dove sono spiegate anche i vari indicatori e il momento esatto per poter entrare al mercato. Questo è un ebook che tutti i principianti dovrebbero comprare perché è un ebook che spiega come leggere i grafici e in che modo leggerli e in che modo poter mettere gli indicatori. se voi non sapete questo non potrete neanche leggere le mie tecniche che si trovano su youtube perché anch'io quando ho iniziato non sapevo come impostare i grafici allora vedevo qualche tecnica però non riuscivo a svolgerla perché non sapevo che funzioni avessero gli indicatori e non sapevo come impostare i grafici in questo ebook è spiegato tutto ed è spiegato molto dell'analisi tecnica che è una buona base di partenza per chiunque voglia investire negli opzioni binarie poi c'è il mio secondo ebook piano d'azione per le opzioni binarie dove invece è per chi vuole volesse avere altre tecniche per investire e dove spiega come costruire un piano di trading per poter investire nei vari mercati poi c'è il terzo ebook le grandi teorie per investire in opzioni binarie è un ebook più avanzato per chi volesse sapere cos'è la teoria di Dow di Fibonacci e di Elliot per chi volesse impostare i grafici con le varie teorie di Fibonacci e quindi riuscire a capire perché i mercati hanno un certo comportamento e un certo andamento e poi c'è il mio quarto ebook soluzioni pratiche per le opzioni binarie dove ci sono circa 18 tecniche che vanno dai 60 secondi a un'ora quindi in questi ebook potete scegliere la tecnica migliore che fa per voi e quindi potete investire con queste tecniche queste tecniche sono veramente facili vi faccio vedere come si configurano i grafici il perché di questi indicatori vi spiego come funzionano e perché impostarli in questa maniera e poi c'è il mio quinto ebook Fibonacci negli opzioni binarie che è tutto dedicato a Fibonacci non avrete più segreti su Fibonacci sulla sua teoria e su come funzionano i ritracciamenti di Fibonacci e le falline io in questi ebook ci sono tre tecniche una tecnica dedicata proprio alle trendline e alla tecnica del ventaglio vi faccio vedere come si calcolano i target price che peraltro è un calcolo veramente facile e poi vi faccio vedere come si investe con la tecnica di Fibonacci però sono sempre tecniche create da me vi faccio vedere come si investe con la tecnica di Fibonacci e con i pattern di prezzo con le falline e inoltre ci sono dei video dimostrativi in particolare quattro video dimostrativi che potete scaricare da una pagina del mio sito il link si trova nel libro e questi video vi fanno vedere come configurare i grafici e come poter investire con le tecniche che io spiego in questo ebook spero di esservi stata d'aiuto anche oggi io vi metto al più presto i vari articoli così potete scaricare anche la versione pdf se seguite quelle tecniche di money management potete riuscire a non perdere i vostri soldi e a riuscire a stare di più sul mercato fino a che non imparerete e non diventerete dei trader più esperti vi ringrazio della vostra attenzione ci vediamo al prossimo video ciao e grazie a a Grazie.